Bentornati alle lezioni della vostra prof di lettere su YouTube. Stiamo ripassando insieme la letteratura italiana e nel corso delle lezioni precedenti abbiamo parlato di quel periodo, di quel movimento culturale che è noto come l'umanesimo inquadrandolo nelle sue coordinate storiche e vedendone le principali caratteristiche e quelli che sono i più importanti esponenti. Oggi, con questa breve lezione, concludiamo il nostro discorso sull'umanesimo incontrando altri due importantissimi esponenti di questo periodo, due grandi personalità delle letterature italiane del Quattrocento. Si tratta di Matteo Maria Boiardo e di Jacopo Sanazzaro. Partiamo appunto dal Boiardo. Matteo Maria Boiardo nacque intorno al 1441 a Scandiano, vicino a Reggio Emilia, da una famiglia nobile e alla morte del padre assunse l'amministrazione dei beni familiari, ma a causa di difficoltà nei rapporti con i suoi parenti si trasferì a Ferrara. Qui, legato alla famiglia degli Estensi, ai suoi membri dedicò i primi componimenti poetici, Carmina dell'Audibus Estensium del 1463 circa e le Dieci Englobe Virgiliane e Lode di Ercole d'Est, intitolate Pastoralia, nel 1464. Poi, dal 1480 al 1483, ebbe il governatorato di Modena e dal 1487, fino alla morte avvenuta nel 1494, quello di Reggio Emilia. La sua attività letteraria si concretizzò in un canzoniere giovanile, Amorum Libri Tres, e nel suo capolavoro, l'Orlando Innamorato. Partiamo dagli Amorum Libri. L'impostazione petrarchesca è un canzoniere che viene considerato tra le raccolte migliori del Quattrocento. Si tratta di un'opera organica, scritta in volgare e divisa in tre libri, che cantano rispettivamente le gioie, le pene e i rimpianti d'amore per Antonia Caprara, la donna a cui il canzoniere è dedicato. Ciascun libro è costituito da 50 sonetti e 10 componimenti in metri diversi. Da Petrarca, che Boiardo imitò in maniera quasi fedele, egli si distinse però per la maggiore passionalità dello stile e per il linguaggio più colorito e descrittivo. Ma sicuramente l'opera per la quale Boiardo è assolutamente più noto è l'Orlando Innamorato, di cui tutti avrete sentito parlare. Si tratta di un poema scritto in ottave, che in realtà ha avuto una lunga gestazione, perché i primi due libri furono completati nel 1482, mentre il terzo, precedentemente interrotto alla stanza 26 del cantonono, fu poi scritto e rielaborato dal 1484 fino alla morte dell'autore, che ricordiamo è avvenuta nel 1494. Ora, nell'Orlando Innamorato, Boiardo ha tentato di fondere il ciclo carolingio e quello bretone, aggiungendo poi una parte encomiastica nella quale celebrava una fettizia discendenza degli estensi da Ruggero, valoroso guerriero pagano appartenente alla Sirpe di Ettore, e Bradamante, paladina di Francia. Ora, la struttura generale è quella che già noi conosciamo del ciclo carolingio, con tutti i suoi più importanti personaggi. E quindi, Angelica, la bellissima figlia del re del Catai, sfida i guerrieri di Carlo Magno a combattere contro il fratello Argalia, promettendosi sposa al vincitore. Ma quando Ferragù uccide Argalia, Angelica viene meno alla parola data e fugge in Oriente, inseguita dai paladini, innamorati di lei, compresi i cugini Orlando e Rinaldo. La situazione si capovolgerà però quando Rinaldo avrà bevuto alla fonte dell'odio e Angelica invece a quella dell'amore, per cui adesso sarà lei innamorata a inseguirlo. Intanto, il saraceno agricane, che è gli innamorato di Angelica, per cercare di conquistarla, pone l'assedio dal Bracca, poi viene ucciso da Orlando. La guerra tra cristiani e saraceni continua poi in Occidente, dove Agramante, re dei Mori, sferra un violento attacco contro i cristiani. Ma i paladini e lo stesso Rinaldo, che ha di nuovo bevuto la fonte dell'amore, inseguono Angelica invece di partecipare alla battaglia. Carlo Magno allora consegna Angelica in custodia al duca Naimo di Baviera, promettendo lei sposa al cavaliere che combatterà più valorosamente contro i saraceni. E a questo punto viene narrato l'amore tra Ruggero e Bradamante, la sorella di Rinaldo, e vari segnali lasciano intendere che dal matrimonio tra i due avrà origine la sirpe degli estensi. Quindi è evidente come l'intreccio elaborato trasporta il lettore, senza momenti d'arresto, in uno spazio-tempo fantastico, immaginifico, con una grande abilità descrittiva. I temi sono quelli canonici del poema cavalleresco, e quindi l'avventura, l'amore, la forza, il valore, ma senza nessuna prevalenza dell'uno sull'altro, scusate qui avanti da solo, senza nessuna prevalenza dell'uno sull'altro, regalando al pubblico delle corte gli ideali e i miti del passato nei quali la società rinascimentale poteva ancora immedesimarsi. Il linguaggio è emiliano, con alcuni inserti toscani, popolari e aulici, che fu comunque poco amato dai letterati del XVI secolo, che invece preferirono leggere l'Orlando innamorato attraverso i rifacimenti in toscano, che furono fatti da Francesco Berni nel 1541 e da Ludovico Domenichi nel 1545. Quindi questo per quanto riguarda Matteo Mario Boiardo. Passiamo quindi a Jacopo Sannazzaro, che viene considerato l'iniziatore di un genere di grande fortuna, il dramma pastorale, del quale la sua opera principale, l'Arcadia, viene poi il modello per gli scrittori cinquecenteschi. Ora, nato a Napoli, scusate, non so perché oggi vanno avanti da sole le slide, comunque dicevo, nato a Napoli nel 1455, Sannazzaro fu un membro dell'Accademia, scusate, Sannazzaro fu membro dell'Accademia Napoletana e si legò agli Aragonesi. Nel 1501 seguì Federico III, esiliato in Francia, e poi tornò a Napoli dopo la morte di Federico, quindi visse nella villa che aveva avuto in dono del sovrano fino al termine della sua vita, che verrà nel 1530. Nello stesso anno fu pubblicato postumo il suo canzoniere, intitolato Sonetti e canzoni, è dedicato a Cassandra Marchese, nobildonna napoletana, dalla quale per lo più si ispirò il poeta. I componimenti sono in tutto 101, e in particolare la prima parte comprende le rime giovanili, di tema vario, quindi politico, amoroso, celebrativo. La seconda parte, che è più organica, raccoglie invece le poesie d'amore, composte tra il 1494 e il 1504. Comunque, la sua produzione si può dividere in due fasi, separate dall'esperienza dell'esilio, insomma, quando seguì appunto Federico III, esiliato in Francia. E vediamo che, prima della morte di Federico III, l'autore scrisse in prevalenza rime petrarchesche e componimenti popolareschi, ad esempio le farse dialettali, come gliomeri, che significa argomento l'imni in napoletano, ovvero dei monologhi recitati nelle feste di corte. Nella seconda fase, invece, dopo l'esilio, compose in latino, con un discreto successo, le elegie e le egloche fiscatorie. Sicuramente, però, l'opera che gli diede maggiore fama fu, come dicevamo, l'Arcadia, un libro misto di prose e versi, il cui nucleo più antico risale al 1480. Fra il 1483 e il 1486 si ha la prima stesura, mentre poi una seconda fu pubblicata a Napoli nel 1504. Ora, in questa seconda versione, la prosa ha assunto un ruolo più importante nell'economia dell'opera, tanto che furono emendati i termini dialettali e il linguaggio si adeguò al toscano utilizzato da Boccaccio e Pietrarca. Ma vediamo quella che è la prama. Il pastore sincero, che incarna lo stesso poeta, si reca in Arcadia, la terra dei pastori, per consolarsi di un amore infelice, quello per Amaranta. Guidato da una ninfa, poi torna a Napoli e apprende che la fanciulla amata è morta. E quindi, l'ambientazione nostalgica, l'enfasi per la vita serena della campagna, il mito d'Arcadia, sono elementi con il quale San Nazaro ha saputo rappresentare, con grande abilità letteraria, i valori di moda nel 500, dando nuova rinfa al genere bucolico. Come dicevano, nella seconda edizione del 1504, il linguaggio si è adeguato al toscano utilizzato da Pietrarca e Boccaccio. Grazie per aver seguito anche quest'ultima lezione sull'umanesimo, mi scuso per i problemi tecnici che abbiamo incontrato. Vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un commento se volete ricevere l'intera produzione di slide, diciamo, riguardo all'umanesimo e vi invito a seguirci per continuare a ripassare insieme la letteratura italiana. Nel corso del prossimo video incontreremo anche gli importanti letterati del primo 500, quindi nel periodo del cosiddetto rinascimento. Grazie. 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 Grazie.